In provincia di Cuneo più di un'impresa su quattro è artigiana, lo dicono i dati della Camera di Commercio che al 31 marzo hanno segnato 17.412 imprese artigiane pari al 25,83% del tessuto imprenditoriale locale. Nella provincia granda però il saldo fra nuove imprese è chiusura e negativo per oltre 200 unità e proprio l'artigianato ha mostrato un andamento peggiore rispetto al resto del sistema imprenditoriale. Il presidente della Camera di Commercio Cuneo e Ferruccio Dardanello è evidenziato come sia necessario aumentare gli sforzi per agevolare l'operatività delle imprese artigiane fornendo loro servizi e progettualità adeguati alla struttura dimensionale sia in ambito internazionale sia sostenendo nel percorso di innovazione. Le forme più strutturate anche nel primo trimestre 2019 manifestano una tenuta migliore rispetto alle restanti realtà artigiane. Il bilancio per forma giuridica evidenzia infatti risultati incoraggianti per le sole società di capitale che riscontrano un tasso di crescita del più 1,79. Per quanto attiene i settori a patire di più la crisi è sempre quello dell'edilizia.